Claudio Cricelli, oggi si parla di tenere insieme due saperi importanti, quello della medicina umana e della medicina veterinaria. La medicina generale per sua natura ha un po' fatto questo nella storia, un po' una sua caratteristica direi ontologica. Che riflessioni ti senti di fare oggi rispetto a questo? Quindi ha una richiesta forte che proviene sia dal versante veterinario che da quello umano. Il concetto che oggi sono venuto a portare e che ho condiviso è che noi viviamo nel mondo degli esseri viventi, dove ci sono i nostri pazienti, i nostri concittadini, le nostre famiglie, le nostre comunità. C'è tutto il mondo che li circonda, compreso gli animali, compreso l'ambiente in cui vivono. E questa presa di consapevolezza, che ormai è matura anche all'interno del nostro mondo, della medicina generale, è sempre stata ostacolata dal fatto che non si riesce a incontrare le persone e i professionisti del mondo sanitario con i quali bisognerebbe interagire. Quindi oggi non soltanto abbiamo potuto cominciare a costruire questa relazione, perché se non hai un rapporto con il mondo che ti circonda non riesci neanche a cominciare a realizzare quelle cose di cui sei consapevole di avere bisogno. Quindi che il mondo sia unico ormai lo ha stradimostrato il Covid. Il Covid è stata una lezione nei confronti anche del nostro modello culturale. Cioè non è più possibile separare in varie parti il mondo in cui viviamo. Gli umani, gli animali, la diffusione, i trasporti fanno sì che noi ci dobbiamo occupare di tutto quello che sta intorno agli esseri viventi intorno all'ambiente. Come farlo? Ecco, questa è la vera novità. E mentre siamo molto avanti nella cultura, siamo molto indietro nel creare gli strumenti e le relazioni per farlo. Quindi oggi, dal mio punto di vista, abbiamo fatto un passo avanti ed io sono molto contento di questo contatto evoluto per mettere insieme delle figure che spesso noi non conosciamo nemmeno e dalle quali non siamo conosciuti. Perché il mondo veterinario, il mondo delle malattie infettive e della medicina generale sono molto vicine. Le società lavorano e hanno lavorato moltissimo. Però il mondo veterinario, il mondo dell'igiene e della sanità pubblica, no, il mondo della zooprofilassi, il mondo delle malattie tropicali e delle malattie parassiali, non si conoscono. Quindi oggi è stato non soltanto un evento in cui si sono affermati dei concetti, ma in cui si sono cominciate a creare delle relazioni attraverso le quali io sono confidente che nei prossimi anni si possa creare veramente la cultura generale della salute integrata.